a casa dello zio arturo ma che bella coppia ma che bella cubia zappino corto contro zappino lungo buongiorno buongiorno tirare i figli tirai? quando ti tirare la madonna ti tirai i figli la porca madonna si è appena tirato i figli io mi fioffi la testa adesso faccio il favo una volta non perdere tanto tempo non capisci non capisci e te che devi tirare i figli ma perchè mi hai messo la canottiera ma manca la pianta la cresce ti ti dà presto il fil eh ma prima che la cresce mai tornava a arrivare vada la faccio vedere una volta e poi vado a la 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 l'espo la 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 dai Tu non lo sai ma lui è un classico, è un tipico uomo veneto, faccio tutto a me. Non faccio tutto a me. E' un mossa tutta sto a me. Ma se è un gruppo lì, va solo allora no? Ma rovina tutti i fai di ocano. Ma rovina tutti i fai. Ma rovina tutti i fogli. C'era qui, la pia lì, va su da solo. Quei belli qui. Parecchi. Ti vedi che ho fatto sui travelle. Parecchi, ti vedi che ho fatto. E' una. Perché non ti ho fissato? Non te lo dico. No, che passa bene. Attendi, ci vuole me la catena anche a me. Sai che sei lì? Il piano dei cinesi. Preto unitario? Neuro forza. Lughe? La cucina dei cinesi. La cucina dei cinesi è il mercato. E' bravo. E' bravo. E' bravo. E' bravo, basta cattare sempre da loro. Anziché cattare dagli italiani. No, dai, vediamo come se lo vuoi. No, po' prima che ti vuoi. Guarda che orticello, guarda che orticello. Guarda che pranziamo. facciamo semenza adesso vado a casa anche io faccio due lavoretti che magari riesco a fare qualcosa oggi ermene gildo ho già decattizzo finisagge niente fa una cout sti dippe mi sono un po' più calva pur figurati peggio peggio dopo otto ore vieni a casa fatta tutta sono già tempo tempo indeterminato praticamente